Nel pomeriggio di ieri, nell'ambito di un ordinario servizio di vigilanza in autostrada, una pattuglia della sottosezione della stradale di Palmanova ha sottoposto a controllo un'autovettura macerie a scontargherese lungo la tratta a Venezia Trieste di autostrada A4 all'altezza del casello di Porpetto in provincia di Udine. La vettura era stata segnalata in quanto a bordo poteva esserci l'autore di un furto di bagagli perpetrato due giorni prima in una pattuglia di sosta lungo la A4 nel comune di Ronchis. La precisa descrizione fisica del malvimento da parte dei rubati hanno permesso alla pattuglia di riconoscere l'autista del veicolo della Marcella, scontargherese, proprio l'autore del furto connesso in precedenza. Un cittadino kosovaro, B.A., di 39 anni, residente in Ungheria, il soggetto trovato in possesso di alcuni strumenti di infrazione è stato quindi denunciato in stato di libertà per reato commesso i due giorni addietro. Nel caso specifico il malvimento avrebbe praticato l'efforto del pleumatico approfittando della sosta della famiglia di turisti all'area di servizio di Fratta Sud nel comune di Fossalta di Portogluaro per poi seguirli al momento della ripartenza fino alla sosta forzata avvenuta in una piazzola distante pochi chilometri. In quell'occasione il cittadino kosovaro si accodava con la propria vettura e quella forzatamente ferma dai malcapitati automobilisti riuscendo a soppiato ad introdursi nell'abitacolo per asportare il bagaglio e così rileguarsi.